ciao manutentori e bentornati nel mio garage io sono stefano finalmente ritorniamo a parlare di parkside ho fatto un po di spesa giovedì 14 iniziamo un volantino strapieno di utensili parkside performance molti li avevo già magari non avevo l'ultima versione ma quello che mi serve ce l'ho però nonostante abbia anche tante livelle laser ero troppo curioso di vedere l'ultima versione di livella laser performance avevo provato tempo fa la precedente versione e non mi era piaciuta moltissimo vi metto poi qua il video aveva un discreto prezzo d'acquisto però caratteristiche che mi avevano lasciato abbastanza perplesso più di una quella di oggi invece dovrebbe essere un grande grande salto di qualità costa parecchio in più 30 euro in più abbondanti però è un'altra storia andiamo a vedere ma prima sigla bene senza indugio la apriamo vi faccio notare una cosa quella che ho comprato io qui avevo una doppia etichetta come se fosse stata richiusa dentro appariva comunque nuova per cui va bene così apriamo tra l'altro avevo la fascetta però la fascetta sai se è stata richiusa rigenerata diciamo in fabbrica è ovvio che ci mettono la fascetta diciamo non era stata toccata in negozio ma sembrava proprio richiusa da direttamente dall'importatore o da chi per lui insomma dimenticavo diamo una scorsa le caratteristiche livelli a laser a croce ricaricabile 20 volt 20 volt 3 per 360 gradi questo vuol dire che a tre raggi a 360 gradi la precedente aveva un solo raggio a 360 gradi e uno che non era proprio a 180 era inclinato comunque era molto inferiore come caratteristiche precisione più o meno 0,2 mm per metro 30 metri di distanza massima che non sono tantissimi per una livella a raggio verde perché questa è a raggio verde alcune livelle 3 per 360 arrivano anche a 50 metri costano anche di più comunque tempo di livellamento 4 secondi queste sono caratteristiche più o meno che si ritrovano in tutte le livelle laser autolivellanti perché parliamo di livelle laser autolivellanti poi vediamo tutto intervallo di livellamento più o meno 4 gradi che abbastanza ampio perché molte arrivano a 3 gradi modalità di proiezione autolivellante o manuale quindi fissa raggio del 300 per cento superiore rispetto a un modello che è pk l l8 a 3 che dovrebbe essere quella piccola a raggio rosso precisione due volte più elevata e visibilità delle linee laser quattro volte migliore ok e qua ci sono le cose più interessanti uso con le batterie smart parkside x 20 v paps performance ottimale grazie alla configurazione personalizzazione e monitoraggio dati tramite l'app parkside tre precisi laser rotanti in realtà non sono proprio rotanti comunque vabbè luce laser verde l'abbia già detto vabbè il resto si può vedere tutto mano a mano che facciamo il video apriamola intanto c'è una bella valigetta classica delle performance sembra quella dei trapani ed è molto importante questo perché avere una livella laser che è uno strumento di precisione e non avere una custodia cosa che la precedente non aveva è uno svantaggio invece qui abbiamo una bella valigetta protettiva anche se magari essendo una livella laser forse anche l'imbottitura ci sarebbe stata bene ma chiediamo troppo ecco qua tutto ben ordinato c'è poca roba in realtà perché tutti i vuoti che vedete sono per le batterie e per il caricabatterie che non sono in dotazione quindi alla spesa della livella dobbiamo poi sommare anche quello delle batterie se già ovviamente non abbiamo utensili parkside chi invece è già dotato di utensili parkside fa un parco unico con le stesse batterie e questo il grosso vantaggio di questa livella libretto di istruzioni da leggere attentamente perché è uno strumento soprattutto per chi non l'ho mai usato abbastanza complicato non sono proprio delle cose che come il traparo che schiacci il bottone e siamo tutti abituati ad usarla comunque è un bestione guardate quanto è grossa è bella grossa proprio se poi ci mettiamo anche una batteria diventa ancora più grande e pesantina eccola qua questo è l'ingombro totale decisamente importante in dotazione c'è quasi niente in realtà nel senso che non ha telecomandi non ha cose strane anche perché comandabile da app però a questo enorme supporto fatto si direbbe dello stesso materiale con cui fanno i sogni con cui fanno gli utensili cioè il p a 6 più gf 30 poliammide 6 tipo di polimero rinforzato con fibra di vetro anche questo lo vediamo dopo infine c'è questa mira questa mira l'ho già vista su altre livelle serve per migliorare la visibilità del raggio serve anche per eventualmente spostando la mira capire se qualcosa che stiamo misurando è in bolla oppure no io questa la uso spesso perché devo mettere in piena bolla delle degli impianti che sono lunghi anche 20 metri e quindi la metto vicino alla livella poi sposto e se vedo la linea della livella spostarsi lungo la mira so che l'impianto non è in bolla quindi lo devo regolare naturalmente ci sono altri usi io ne faccio quello qui è magnetica quindi vedete che può essere appoggiata così su una superficie metallica oppure appoggiata sulla qualsiasi superficie con il suo piedistallo qui dietro c'è una superficie riflettente che è quella che aumenta appunto la visibilità del laser lì vedete cosa c'è preparato dei termini di paragone di diverse fasce prezzo però vi faccio subito notare una cosa guardate le dimensioni di questa guardate le dimensioni di questa sigma e guardate le dimensioni di questa da sgu questa ovviamente l'ho messa solo per fare poi un confronto di precisione ed è una livella di primo prezzo questa costa circa 35 40 euro ed è a singolo raggio a croce non è 360 gradi però potete vedere che la nuova parkside è veramente grossa d'altronde parkside si ispira sempre a una certa marca che inizia per b e finisce per os e guarda caso c'è un modello di bosch professional che sembra la fotocopia di un altro colore ma ci assomiglia molto per la stessa bosch fatta così costa non so 300 400 euro una cosa paurosa qui siamo 89 euro che comunque è tanto per una parkside però se ne vuole delle caratteristiche non è tanto per niente esaminiamola tolgo intanto la batteria quindi qui abbiamo la slitta appunto per la batteria ed è compatibile sia con le batterie smart 20 volt x 20 v team sia con le batterie normali x 20 v team il vecchio tipo diciamo quelle che sono in giro dal 2017 eccolo qua e funziona naturalmente con tutte chiaro che utilizzando queste non avremo a disposizione le funzioni smart quindi non potremo comandarla da app ma soltanto dai comandi qui dai pochi comandi presenti direttamente sulla macchina dunque è rivestita interamente in gomma a differenza del vecchio modello che non aveva gommature in questo caso la gommatura non serve tanto per tenerla in mano queste non si tengono in mano queste si appoggiano o si utilizzano con i treppiedi vedete c'è la filettatura da 5 ottavi quella grossa oppure quella da un quarto quella piccola dicevo queste non si tengono in mano a che cosa serve la gommatura più che altro per proteggerla un po da qualche urto quello che io avevo lamentato della precedente versione era che avendo una batteria integrata non aveva alcuna protezione da polvere e acqua e non mi è piaciuto per niente perché tutte queste qua hanno una protezione almeno ip 54 quindi protezione dagli schizzi d'acqua e dalla polvere questa non ha nessuna protezione come l'altra è dichiarata cioè non è dichiarata alcuna protezione ed è anche normale perché loro per dichiarare una protezione devono dichiararla su tutta la macchina ma nel momento in cui io ho una batteria che non è resistente all'acqua gliela metto qui con una slitta che non è resistente all'acqua va da sé che la macchina non può essere dichiarata resistente all'acqua quindi quello rimane un po un mistero abbiamo tutta una bella gommatura che sembra molto protettiva anche qui i tasti sono di gomma non sono tasti di plastica quindi sembra che offrano una buona protezione quantomeno dalla polvere non ci sono fessure non ci sono feritoie però non è dato di sapere quello che a me lascia sempre perplesso in questi casi è che queste livelle vengono utilizzate di solito in cantieri cantieri dove quantomeno anche bucando un muro per dire si fa polvere quindi un po di protezione dalla polvere ci vuole sempre il fatto che non la dichiari non mi lascia un po perplesso anche se penso vedendo come è fatta che non abbia problemi con la polvere con l'acqua ovviamente sì perché i contatti sono scoperti ma con la polvere almeno no in ogni caso andiamo avanti perché buio completo su questo argomento comandi adesso si possiamo mettere la batteria questa è una batteria smart non so se riuscirò oggi a farvi vedere le funzioni smart perché qui non c'è copertura wifi e tutto di fretta questa settimana non sono riuscito a fare l'associazione a casa sotto rete wifi con l'app parkside per cui oggi proverò vediamo ma penso se che senza wifi non riuscirò a fare l'associazione in ogni caso facciamo la prova e vediamo un po la livella nelle sue caratteristiche basilari che comunque sono tutte accessibili dai tasti e poi eventualmente farò un video di compendio con l'utilizzo via insomma un cursore come tutte le altre livelli laser tutte hanno sempre un cursore vedete tutte le auto livellanti hanno un cursore dove abbiamo la posizione bloccata e la posizione auto livellante nella posizione bloccata le torrette sono solidali diciamo sono fisse fissate all'interno del corpo macchina per accenderla si può accenderla ugualmente in modalità fissa premendo questo c'è scritto anche per tre secondi eccola qua si accende prima una torretta premendo nuovamente si accende l'altra torretta premendo la terza volta si accende la terza torretta premendo la quarta volta eccole qua tutte quante e poi vedete si possono spegnere ecco sto vedendo che questa non funziona autonomamente funziona sempre soltanto in concomitanza con questa in associazione con questa e tra l'altro questa e questa non possono funzionare insieme poi probabilmente dall'app magari sì ma adesso sto vedendo che premendo così le associazioni non sono del tutto libere non c'è un comando separato delle tre torrette come c'era per esempio in questa che a v e h separate comunque va bene guardate che ogni tanto emette un lampeggio questo lampeggio eccolo qua significa che siamo in modalità fissa non lo fa in modalità auto livellante questo led rosso ci dice che la livella è bloccata questo invece ci dice che la batteria è sufficiente anche se in realtà questa batteria smart non è completamente carica ma queste sono macchine che consumano poco quindi in realtà con una batteria smart pienamente carica come questa da 4 per ora anche se l'idl non dichiara nel manuale la autonomia dichiara soltanto i tempi di ricarica che vabbè bene o male li sappiamo già si possono anche calcolare sappiamo che se abbiamo una 4 per ora la carichiamo con un caricabatterie da 2 ampere ci metteremo due ore abbondanti non serve che me lo dicano loro almeno a me poi a me sarebbe piaciuto sapere quanta l'autonomia non la sappiamo però vi dico con queste batterie sarà molto ampia perché ad esempio questa la sgu che ha una batteria estraibile da 2600 miliampere ora e 8,4 volt qui abbiamo 4 per ora per esempio anche 2 ampere ora con 20 volt significa che in ogni caso la potenza sviluppata dalla batteria è molto elevata e quindi la macchina ne consumerà pochissima avremo un'autonomia spaziale una giornata intera ve la fa tranquillamente anche con una batteria da 2 ampere ora ora la mettiamo in modalità autolivellante guardate il ragione dietro vedete che oscilla un po dopo di che si livella se la inclino oltre i 4 gradi inizia a rampeggiare e mi dice ciccio guarda che io sono fuori scala anche in modalità autolivellante sempre con questo tasto possiamo comandare i tre laser e basta praticamente il funzionamento senza app è tutto qui manca soltanto una cosa manca la funzione pulse che è molto interessante per fortuna che ce l'ha perché anche se parkside non ha mai messo in commercio un ricevitore laser per livelle dota comunque le sue livelle di funzione pulse bene bene che cos'è un ricevitore laser è un aggeggio come questo questo della chigman l'ho provato già in un altro video ve lo metto qua questo riesce ad estendere il raggio delle livelle laser a dismisura questo arriva fino a 100 metri o almeno arriva fino a 100 metri con questa livella con la quale l'ho provato ma comunque in pratica che cosa fa io l'accendo a diversi livelli di suono mettiamo quello medio vedete adesso il segnale è talmente forte che lui suona praticamente sempre vedete qui inizia già a suonare e non deve quindi allontano le livelle vi faccio vedere esattamente come funziona la livella la metto su uno scaffale la dietro un paio di metri di distanza ora correttamente lui inizia a suonare quando il raggio verde entra nello schermino qua e mi dice scendi eccolo qua quando il ricevitore a livello si accende la luce blu e mi dice sei arrivato questo naturalmente complica un po diciamo la faccenda perché quando lui suona noi poi dovremmo prendere la quota in base a queste linee ma d'altronde siamo a distanza di 100 metri e la livella quella distanza non arriva almeno con il raggio visibile non so se mi sono spiegato bene ora provo a vedere se riesco ad associare la livella all'app se non ci riesco ci rivediamo in un successivo video con quella storia lì e adesso invece usciremo a fare qualche prova sulla distanza confrontandola magari con le amiche qua con i concorrenti anche se concorrenti per modo di dire ecco ho messo tre livelli in fila la popoman centrale dalle spalle perché non è a 360 gradi le altre due invece vedete che hanno il loro barraggio a 360 gradi quindi la parkside è quella più alta la popoman è quella centrale la sigman è quella più bassa adesso farò una cosa molto empirica perché dopo per scontato che il pavimento è lineare e ho verificato che lo è in questo caso quindi abbiamo 118 centimetri precisi la sigman 120 la popoman e 123 e mezzo la parkside ok ora guardate un po la in fondo ecco zoomando sulla parete di fondo che ha circa 37 metri quindi ben oltre la portata dichiarata per queste macchine vediamo solo due righe però voglio andarmi ad accertare da vicino ciao ciao infatti qua in fondo la precisione delle livelle è notevolmente attenuata e oltretutto una delle tre non c'è più quindi abbiamo a 119 la popoman ea 126 la parkside abbiamo qua in fondo il raggio verde ben visibile con questa luce però il raggio qua in fondo è quasi largo un centimetro e quindi potete capire anche voi che comunque 120 119 e mezzo il centro del raggio per la sigman e 126 il raggio per la parkside torniamo indietro e cerchiamo di capire infatti eccolo qua a questa distanza scusate voi non mi vedete io dico a questa distanza sono a circa 15 metri 118 la sigman 119 la popoman 124 la parkside ora forse ho dato troppo per scontato che il pavimento fosse livellato comunque riprendiamo la misura da qui avevamo detto parkside 124 sigman 118 e mezzo quindi là in fondo c'è una differenza di due centimetri per la parkside e di un centimetro per la sigman possiamo già vedere che se una mi misura un centimetro di differenza l'altra misura due centimetri di differenza tutte e due sono nella loro tolleranza perché sono dichiarati 0 2 entrambi 0 2 millimetri per metro e li siamo a 40 metri poi vi metto il calcolo in sovraimpressione però la sigman è leggermente più precisa costante molto di più torniamo dentro che sto morendo di freddo bene quindi avete capito che non sono riuscito ad associare l'app perché non ho wifi qui faremo un successivo video anche perché devo capire quali funzioni sono controllabili via app abbiamo visto che la macchina ha una buona precisione anche perché non è detto che il pavimento sia completamente livellato dovrebbe esserlo ma non è che l'ho misurato in tutti i 40 metri di estensione comunque la differenza è entro le tolleranze direi che ci siamo avete anche visto che sia la sigman che la parkside riescono ad arrivare tranquillamente almeno con questa luce artificiale tranquillamente arrivano a oltre i 30 metri dove invece peccano peccano nella precisione del raggio che da pochi millimetri di spessore mi diventa di un paio di centimetri un centimetro abbondante e quindi lì capiamo che non è più così diciamo facile avere una misurazione precisa a lunghe distanze ed è per questo che esistono questi ed esiste la funzione pulse con questi invece la precisione viene recuperata perché diminuisce diciamo la potenza del raggio ma cambia la frequenza insomma con il ricevitore laser si escono ad avere misurazioni precise anche a lunghe distanze e soprattutto con il sole perché io l'ho provata di sera con l'illuminazione artificiale se voi siete in esterni il raggio verde non si vede il raggio rosso meno che meno ma nessuna livella è utilizzabile senza il ricevitore laser in esterno nessuna quasi nessuna dai lascio il beneficio del dubbio quindi questo non è un problema solo della parkside ma di tutte altra cosa che do per scontato avete visto che io ho usato dei treppiedi per mettere le tre livelle ovviamente le livelle non sono apparecchi che si usano a mano e infatti eccolo qua qui abbiamo questo grosso supporto che ha molte funzioni con questa rotella possiamo regolare l'altezza con precisione con quest'altra rotella possiamo girare la livella una volta che ce la mettiamo su proviamo la dito dopodiché la giro con questo l'alzo e la basso con questo e di qua c'è una chiavetta che mi serve per bloccarla altrimenti tenderà a scendere da sola naturalmente qui sono duplicate le filettature per i treppiedi e naturalmente oltre al treppiede noi possiamo usare delle aste ne ho anche una però purtroppo non ce è un'asta che noi in ambienti non troppo alti possiamo mettere appoggiata al soffitto appoggiata al pavimento e diventa un puntello vero e proprio a uno di questi un supporto scorrevole dove noi fissiamo la livella e possiamo arrivare anche molto alti perché con i treppiedi chiaramente se ne abbiamo uno che arriva un metro e mezzo più di un metro e mezzo non possiamo andare se dobbiamo mettere un pensile più alto di un metro e mezzo una tubatura una linea elettrica come facciamo o ci viene in aiuto il supporto perché questo si può togliere e qui scopre delle calamite vediamo quanto potenti sono decisamente potenti decisamente potenti vedete adesso fanno presa solo due e sono più che sufficienti per tenere la vecchia aveva due ordini di calamite separati da un buon paio di centimetri quindi diventava difficile quando avevamo anche soltanto lo spessore di questo martello o di una classica in telaiatura dei cartongessi per dire diventava difficile far presa con tutti i magneti altra cosa che avevo criticato qui invece abbiamo tre bellissimi magneti al neodymio potentissimi ottimo questa parte invece del supporto a questa clip adesso prendo una chiave giusto per farvi capire ecco qua serve per poterla applicare su ripiani però lo spessore è limitato quindi deve essere un ripiano sottile proprio una lamiera ecco questi due tasti invece permettono una regolazione a due posizioni vedete 1 e 2 perché altrimenti non è bloccata tutte cose che possono servire comunque il supporto è molto carino ben fatto a livello di quello che ho visto su livelli molto più costose livello livelle ok traiamo per ora le conclusioni abbiamo a che fare con una macchina di classe quasi professionale non fosse per quella famosa cosa di cui ho parlato a lungo della classe di protezione sinceramente le bosch a cui questa si è ispirata non so come siano dichiarate come classe di protezione sicuramente le batterie bosch non sono impermeabili quindi batteria esclusa bisognerebbe capire tutto il resto per quanto riguarda bosch se è impermeabile oppure no fatto sta che qui abbiamo un bel bestione che funziona bene stavolta non è anche l'altra vecchia funzionasse male però qui è un'altra classe di prodotto permette a il motivo per cui ci sono tre torrette dopo che ho provato diverse livelle lo do forse troppo per scontato questo serve perché noi possiamo per esempio mettere una linea elettrica a soffitto tipo una fila di luci oppure come nel mio garage quando io ho fatto il mio garage che ho messo l'impianto elettrico ho messo tutte le tubature con i fili elettrici esterne ma tutte allineate utilizzando una di queste livelle questa non ce la avevo ancora ma comunque utilizzando i raggi verticali e avremo anche degli incroci questi due si incrociano e quindi vedremo sul soffitto una croce dove possiamo puntare per esempio una plafoniera un lampadario e da lì tenere traccia sul soffitto per mettere le altre io praticamente segno la posizione sul pavimento della livella dopo metto lungo questa linea a un metro faccio un altro segnale a un altro metro un altro segnale sto facendo un esempio dopodiché sposto la livella sopra i segnali che ho fatto e ho sul soffitto lo stesso riferimento quindi potrò mettere luci a distanza fissa l'una dall'altra spero di essermi spiegato alla fine questa è promossa ottimo rapporto qualità prezzo bella macchina ha qualche difetto ma veniale diciamo che è a livello di macchine ben più costose con il plus dell'autonomia e del fatto di poter utilizzare batterie enormi come addirittura la 8 per ora abbastanza inutile su una macchina del genere che può funzionare tranquillamente con una 2 per ora anzi se facessero a 2 per ora smart saremmo a posto per questo tipo di macchina e per altri utensili a basso consumo invece le smart di parkside partono dalle 4 per ora pazienza io spero che il video vi sia stato utile mettete mi piace iscrivetevi al canale e se i miei video vi piacciono utilizzate i link che lascio in descrizione e lascio anche per le altre livelli che vi ho fatto vedere perché vanno tutte bene e quindi vi lascio i link se volete acquistarne perché questa qui ormai è già introvabile per fare questi su amazon senza spendere nulla di più e aiutare il canale vi invito ad iscrivervi al gruppo facebook consorzio manutenitori indipendenti al gruppo facebook di offerte non solo di fai da te risparmia tempo e denaro lascio tutti i link in descrizione al gruppo kubrick system italia con le bellissime valigette e al gruppo italiano utensili tempo e noi ci vediamo la prossima volta ciao